Mascia e Orso riadattato per i bambini non vedenti. Il cartone animato è disponibile sul canale YouTube Audio Cartoon Italia in una versione speciale. Oltre alla voce di Mascia, quello narrante che racconta l'ambientazione e l'emozione dei personaggi, che nella versione originale sono muti, ma parlano con il corpo. Mentre passa il treno, un cane beve nella sua ciotola, una capra mastica ed un maiale dorme con il muso in una pozza d'acqua facendo delle bolle. Un progetto piloti in Italia che è stato realizzato dalla sezione pretese Unione Ciechi, con il contributo del Comune di Prato. Un cartone inclusivo ed è, credo, una novità, oserei dire, a livello internazionale, proprio perché la specificità di questa audiodescrizione ne dà veramente un valore aggiunto notevole. Per ora sono disponibili 26 episodi. Ne viene caricato uno alla settimana, con la speranza di poter continuare in quest'opera di traduzione che ha comportato 18 mesi di lavoro. Il meccanismo che ci ha sempre mosso è stato quello di avere un bambino accanto a noi, quando studiavamo le altre descrizioni, e pensare di descrivere a lui il mondo. La scelta di Mascia e Orse non è casuale. Mancano quasi del tutto i dialoghi e quindi è di difficile fruizione per i bambini non vedenti. Il meccanismo è anche divertente, perché poi è difficile capire un po' di quello che hanno bisogno, perché prima di arrivare a questa conclusione abbiamo fatto tante prove. L'amministrazione comunale ha sostenuto con 3.000 euro il progetto. Noi siamo contenti, si spera che questo sia un percorso che poi diventi, questo è un piccolo fiume che diventi un oceano.